Buongiorno Buongiorno Andiamo lassù, quel ponte è l'altra Ecco Siamo sul Sul Belvedere E beh Altino eh A serio No no Io non vado lì Prima eravamo la della Diga Questa è il panorama Questa è il panorama Grazie Bene, andiamo a fare il ponte tibetano, se non cadiamo prima. E rimasero in tre perchè l'altro ci ha abbandonato, e adesso cerchiamo questo ponte perchè da un quarto d'ora che camminiamo non lo troviamo, ci abbiamo pagato 3 euro per un casco e adesso andiamo. Finito il ponte tibetano. Bello? Certo. Noi torniamo indietro. Perchè? Perchè? No, di la si può andare però, vabbè, non abbiamo. Cosa aveva detto Cibran prima, attenzione che un chilometro a casa fiora. Certo, l'ho detto perchè il mio maestro l'aveva preso giù, però secondo il mio maestro dovrebbe smetterlo perchè... Nella serie crede che... Si. Bene, finita la camminata, siamo in stanza, sono in stanza perchè gli altri sono ancora giù, non so cosa fare, sono andando nella panchina giù. Ehm, bello, bei posti, e sempre lì la pioggia all'ultimo, però vabbè, in teoria si doveva mettere in conto, l'abbiamo messa in conto, Piazza leggera, un'ora di che, non ci siamo neanche bagnati. E... Vabbè, adesso, facciamo la doccia. Poi... Poi andiamo a mangiare, poi non so cosa facciamo. Niente ragazzi, continua a piovere qui. Adesso non so se si vede nel mare, no? Ti metto qua sotto. Le cose arrivano sulla telecamera. Ehm... Niente, continua a piovere, smette, piovere, smette. Prima o meno ho messo a dormire su una panchina, ma... Iniziato a piovere, sono andato a dormire via. A giocare a palla, non si può andare. Fuori fare un giretto con la bici, così non si può andare. E la cosa che si può fare è starmente a caldo. Beh, niente, ora. Speriamo che da un po' meglio che vada via queste nuvole, ma la vedo grigia, perché... Non c'è praticamente vento. Cioè... Il cielo è così da due ore qua. C'è aria, no? E poi ci sono ferme, completi, anche su... In quota, quindi no. Vabbè... E la mattina sei grazie a dove ho fatto la camminata. Però adesso si tocca subirti l'acqua. Vabbè, non importa. Facciamo dopo. Bene, oggi... Un po' carellino. E beh, ci sta tutto. Certo, direi... Con i filoni. C'è un filoni. E ce n'è un altro che non si vede bene. Oh! 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 Questa è la realtà. Questa è il cielo La tutta è la nostra sono già Questa è la vista. Non è il cielo Già, è in un cielo Di colore, Grazie a tutti